In un novembre difficile per gli ascolti delle emittenti televisive toscane, Noi TV si conferma in controtendenza con i suoi 95.725 ascoltatori giornalieri di media. Non solo, ancora una volta siamo primi assoluti nel dato relativo agli ascoltatori fedeli, ossia quelli che sono presenti in ogni minuto della fascia secondo le rilevazioni ufficiali Auditel. Numeri che al di là del trend di crescita consolidano la leadership di Noi TV tra le emittenti toscane su base provinciale. I telespettatori ci hanno quindi premiato ancora una volta nella nostra scelta di puntare su una programmazione ampiamente basata sull'informazione e la valorizzazione del territorio. Le 14 edizioni del TG Noi e del TG Noi Versilia risultano ancora una volta le più seguite. Le trasmissioni di approfondimento politico e sportivo sono state premiate da voi telespettatori. Le nostre effetto versile e colori del cerchio sono ormai un punto di riferimento non solo in provincia di Lucca ma in tutta la regione e come al solito per questi risultati non possiamo far altro che ringraziarvi e con l'occasione tutto lo staff di Noi TV vi augura buone feste.